Sapevi che esistono dei farmaci nati dall'unione tra tecnologia e natura? Anni di ricerca racchiusi nel palmo di una mano. Non ci credi? Ehi, futura, parlami dei farmaci biotecnologici. Prodotti per la prima volta nel 1982. I farmaci biotecnologici sono realizzati attraverso meccanismi di produzione complessi e innovativi. È per questo che sono efficaci, sicuri e di qualità. Puoi trovare maggiori informazioni su www.ifutura.it Ehi, futura, cosa fai stasera? Ho da fare!